Adesso Sì, sì Sì Solo che si vede piccolo Sì, funziona Sì 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 I forgot to 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 Cattro, 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 cattro nemo e cattro cattro Quanto manca? Posso stoppare? E questo è Lele Che sta guardando L'elicottero dello zio Anni Fai ciao lo zio Anni Fai ciao Ciao Fai da Giovanni Dai che ti faccio il video Vuoi andare da zio Anni? Vuoi andare da zio Anni?